Visita a Casal Pusterlengo questa mattina per l'assessore regionale a territorio e protezione civile Pietro Foroni. Un momento utile per dire grazie a tutti i volontari che si sono spesi e si stanno ancora spendendo durante questa emergenza. Ho voluto portare il mio ringraziamento oggi alla croce casalese di Casal Pusterlengo, così come ho voluto portare il ringraziamento al sistema di protezione civile di Casal Pusterlengo. Durante l'emergenza Covid, questa bruttissima emergenza, è emerso anche in queste circostanze il grande valore del volontariato. Il volontariato della croce casalese che hanno assistito in maniera eccezionale l'apparato sanitario, non solo per Casal Pusterlengo, non solo per il basso Lodigiano, ma anche per gran parte della Lombardia. Grazie, un fortissimo ringraziamento a tutti i volontari. Senza il mondo del volontariato, oggi ogni ente locale, ogni comune, la stessa regione, lo stesso governo, quindi lo stesso Stato, non riuscirebbero in alcun modo a fare a meno. Oggi con l'assessore regionale Pietro Foroni abbiamo voluto tributare il nostro grazie più sentito ai volontari della croce casalese, che durante questi mesi di emergenza non hanno mai abbandonato la nostra popolazione, intervenendo in caso di necessità di tipo sanitario. Quindi il nostro grazie è dovuto soprattutto a quei volontari che in questi tre mesi non si sono mai tirati indietro e si sono impiegati in favore della cittadinanza.